Bella raga e benvenuti in questo nuovo vlog Sono qua a casa di mia nonna Mi sta guardando strano Ma non ho capito ancora di perché Sono qua a casa di mia nonna Non so che fare Forse ma me ne vado E niente Forse ma farò un altro video Forse Ma lo so